sapesse contessa che cosa mi ha detto un caro parente dell'occupazione che quella centagna rinchiusa l'attento di vero amore che c'è a professione del resto mia cari di che si stupisce anche l'operario vuole il tiro dottore e pensi che ambiente ne può tenere fuori non c'è più morale con te se andando più schiavo la vischia più forte vedevi rivolta sono meno se c'è chi la ferma non state a sentire è una che vuole soltanto tradire se c'è chi la ferma sputate gli addosso la bambina rossa c'entrata io non posso ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra vogliamo vedervi finire sotto terra ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato nessuno del mondo deve essere giustato vogliamo in piazza manifestare per i diritti dei laboratori delle morti sul lavoro vogliamo in piazza manifestare per quello per quello vogliamo in piazza manifestare per i diritti dei morti sul lavoro e per i diritti dei morti sul lavoro vogliamo in piazza manifestare per i diritti dei morti sul lavoro Grazie a tutti.